Si svolgerà domani presso la Chiesa Madre di Acerno la cerimonia di riconsegna del tesoro di San Donato, sottratto l'11 settembre 2017. L'attività di recupero trae origine da approfondimenti investigativi condotti nell'ambito di un'indagine del nucleo TPC di Napoli che ha permesso di acquisire elementi certi di colpevolezza nei confronti di 29 persone, facenti parte di un'organizzazione criminale con base logistica in provincia di Napoli che ricettava beni d'arte provenienti da luoghi di culto e istituti religiosi. Di fondamentale importanza per l'individuazione del tesoro è risultata la comparazione delle immagini degli oggetti sequestrati con quelle contenute nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, che ha consentito di accertare la riconducibilità di alcuni di questi con quelli saccheggiati dalla Chiesa Madre di Acerno nel 2017. Grazie